Bentornati a tutti in questo secondo appuntamento del Gran Premio di Shanghai, dove andiamo a commentare la seconda giornata di questo weekend di gara, dove abbiamo visto stamattina alle 5 la Sprint Race, la prima dell'anno, mentre ora alle 10 sono appena terminate le qualifiche della gara della domenica. Vi ricordo che questo qui è un appuntamento periodico dove tutte le gare della stagione, tutti i giorni del weekend di gara, quindi venerdì, sabato e domenica, troverete un video proprio qui sul canale di F1 in generale, quindi vi invito ad iscrivervi per non perderne nessuno di questi. La sveglia stamani ha suonato per buttarci giù dal letto per farci vedere questa gara Sprint. Gara Sprint che tutto sommato è stata abbastanza divertente e movimentata. Vedevamo il Polman, Lando Norris, partire davanti a Hamilton e Alonso con subito dietro Verstappen. Comunque ci saremmo immaginati che Verstappen avrebbe fatto la sua gara canonica partendo e superando tutti quanti senza alcun tipo di problema. Questa cosa nei primi giri è venuta un po' meno perché Verstappen ha proprio avuto un problema con la batteria e l'ha avuta praticamente sempre scarica e non riusciva mai a sfruttarla tutta quanta, soprattutto nel grandissimo rettilineo che c'è tra curva 13 e 14. Poi con un team radio dal box gli hanno detto quale settaggio corretto mettere per far funzionare al meglio la sua batteria e da lì in avanti non c'è stata più storia per nessuno. Addirittura c'è stato un momento dove Sainz ha provato anche degli attacchi su Verstappen, cosa che devo dire mi hanno esaltato molto. Cosa che non mi ha esaltato è stata la brutta partenza di Norris che si è fatto subito infilare da Hamilton nella prima curva e poi piano piano farsi accompagnare sulla parte sporca della pista da parte del pirata della Mercedes, cosa che poi in quel momento Lando non ha più potuto fare niente, ha perso la macchina non avendo più grip e è finito largo, finendo molto molto indietro in classifica. Da lì in avanti non c'è stato più modo per lui di recuperare le posizioni purtroppo e è rimasto molto indietro, infatti non si è più ripreso. La classifica vede come sempre un Verstappen vincitore, Hamilton secondo, Perez terzo, Leclerc quarto, quinto Sainz, sesto Norris e settimo Piastri. Un ottimo Ju che comunque si mette in nonna posizione e un mediocre Russell che si trova poco sopra di lui in ottava posizione. Grande gara di Hamilton che nonostante la macchina è comunque riuscito a stare sempre abbastanza veloce con i tempi e quindi rimanere in seconda posizione senza dare modo a Perez di recuperarlo, anche perché i giri, 20 giri, non sarebbero stati sufficienti affinché il messicano riuscisse ad avvicinarsi a Hamilton pericolosamente. Soprattutto perché Perez è stato tanto dietro a Sainz e ad Alonso e questo gli ha fatto perdere tantissimo tempo, infatti dal giro 16 in poi, ovvero da quando Perez è riuscito a sorpassare questi altri due piloti, da lì il suo passo è completamente aumentato e andava veramente molto più veloce agli altri. Un altro pilota che una volta che ha avuto pista libera si è trovato abbastanza a suo agio con la macchina è stato Leclerc, che una volta trovatosi da solo per un giro ha quasi tenuto gli stessi tempi di Verstappen. Poi è andato piano piano ad alzarsi ma niente a che vedere con il ritmo che aveva rimanendo dietro nel traffico di Alonso. Alonso che ha corso una gara veramente forte non è andato affatto male, l'unica cosa è che ha avuto diciamo un contatto, un disguido con Sainz andandola a portare fuori durante un tentativo di attacco di Carlos e questo gli ha costato 3 punti sulla patente e 20 secondi di penalità. 20 secondi di penalità che poi alla fine non si sono concretizzati perché purtroppo si è ritirato. Passi gara che sono un po' difficili da commentare perché non siamo riusciti a vedere la prestazione pura di una singola vettura con il fatto che McLaren, Ferrari e una Red Bull sono rimasti dietro tutto il tempo a Alonso che comunque aveva una macchina un po' meno performante rispetto agli altri. Per questo anche se andiamo a vedere tutti quanti i grafici dei tempi noteremo che non ci sono differenze tra i piloti. Stanno praticamente, hanno praticamente tutti quanti girato sugli stessi tempi da inizio a fine della gara. Un unico problema lo vediamo dove appunto c'è stato il contatto o la bagarre tra questi piloti. Non si è visto quasi nessun tipo di degrado, soprattutto sul Red Bull di Verstappen che è andato via, è partito e non lo fermava più nessuno ma anche sulle altre macchine sono rimasti comunque tutti quanti molto costanti con i tempi, senza particolari problemi. Andando anche a vedere quelle che sono state le differenze di passo, non che sia tanto utile farlo, tra Verstappen, Leclerc e Hamilton, vediamo come Leclerc e Hamilton abbiano praticamente girato sempre allo stesso identico passo finché comunque Leclerc non si era liberato di quelli che aveva davanti. In quel momento, quindi dal sedicesimo giro in poi, ha fatto un giro molto veloce vicino ai tempi di Verstappen e poi gli altri sono andati piano piano a salire, come se ci fosse stato un pochino di degrado. Invece la linea dei tempi di Verstappen è incredibilmente perfetta, non c'è un accenno di degrado e è stato assolutamente magistrale. Mi sento di dire che comunque i tempi di questi piloti siano stati sì plafonati da Alonso che si è trovato nel mezzo con una macchina non performante come quelle dietro. Da fare un grandissimo applauso in questo caso a Wang Yu Jo che si è messo in nona posizione e si è portato dietro di lui un Magnussen. Ricciardo che non ha fatto assolutamente una cattiva gara anche mettendolo a paragone con Sunoda. Infatti Ricciardo undicesimo, Sunoda sedicesimo. In questa pista pare che ci sia un momento di parità tra quella che è la Haas e la Sauber. Vediamo poi nella gara di domenica più lunga come si evolverà la situazione. Unica cosa che mi sento di criticare è un'altra volta il comportamento della federazione su quelli che sono stati i sorpassi, le difese e quant'altro. Praticamente si lamentano ormai di qualsiasi cosa. Ogni tipo di difesa viene visto come un atteggiamento scorretto verso un altro pilota e si tende a dare fin troppe penalità. A questo punto se nessun pilota si può difendere cosa le facciamo a fare le gare? A questo punto togliamo le gare o facciamo solo drag racing ognuno sulla sua corsia oppure facciamo solamente qualifiche. Perché a questo modo si perde tutto quello che è il fascino della Formula 1. Se bisogna andare a lamentarsi per la difesa di Sainz su Leclerc mi sembra una totale assurdità. Lì Sainz era in gara e giustamente ha fatto la sua manovra per difendersi su Leclerc. Non l'ha buttato fuori pista, non è successo un incidente gravissimo. È stata semplicemente una difesa. Difesa come ne vediamo di tantissime altre, in tantissime altre categorie. Come diceva arriva bene, lasciamo correre questi ragazzi. Non riferito solo ai due Ferrari ma riferito a tutti e quanti i 20 piloti. Arriva finalmente il momento della qualifica, quella che dà la griglia della domenica. Abbiamo visto inizialmente un Q3 che ha eliminato Lewis Hamilton, una cosa che non mi sarei mai aspettato sinceramente, visto le ottime prestazioni che ha avuto poco prima la mattina, vederlo qua giù in fondo è stato veramente veramente un peccato. Anche Tsunoda non si è trovato con la macchina in Cina ed è per questo che anche lui si trova in penultima posizione quando qui il compagno di squadra è dodicesimo. Peccato perché Tsunoda era veramente in un'ottima fase della sua carriera dove stava riuscendo a esprimersi molto bene. Secondo lui ci sono stati dei problemi alla vettura, cosa che vedo abbastanza plausibile visto che comunque a rivedere gli onboard non ha commesso errori ed è andato abbastanza bene. Errore che a differenza di Tsunoda ha commesso Hamilton arrivando lungo in curva 14 dopo il lunghissimo rettilineo. Praticamente ha perso 6 decimi solamente lì ed è stato costretto a non entrare in Q2. Invece un grande applauso a Alpine che con il nuovo fondo è riuscita a mettere in Q2 tutte e due le vetture per la prima volta quest'anno. Sono veramente contento per Alpine. Qualifica di casa che non è andata altrettanto bene a Giù perché non riesce nemmeno a entrare in Q2 quando invece il compagno di squadra Bottas è arrivato decimo riuscendo a entrare in Q3. Veramente una qualifica magistrale per Bottas. Q2 che ha fatto venire un attimo di panico e di paura a tutti quanti i tifosi della rossa perché abbiamo visto Carlos Sainz all'uscita di curva 16 quindi dell'ultima curva mettere due ruote sul ghiaino, perdere la vettura e andare a impattare contro il muro. Per fortuna è riuscito a appoggiarsi di lato con la macchina alle barriere e a non fare danni alla macchina se non per l'ala anteriore. Quindi bandiera rossa, qualifica neutralizzata, Sainz che rientra al box, cambiano l'ala, fanno tutti quante le verifiche del caso e riescono a rimetterlo in pista senza tanti problemi. Arrivata la bandiera a scacchi sulla seconda sessione di qualifica vediamo che sono stati eliminati Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon e Gasly, un'altra volta Ocon davanti Gasly, quindi ottimo lavoro per lui. Sono anche molto contento per Ricciardo che finalmente riesce a trovare un po' una quadra rispetto ai problemi che ha avuto nelle prime quattro gare della stagione, complice ovviamente anche il presunto problema di Tsunoda. Q3 molto emozionante che abbiamo visto sul finale come la pista stava effettivamente migliorando. Infatti mano a mano che i piloti passavano sulla linea del traguardo si andavano a mettere in seconda posizione dietro a Verstappen perché ovviamente Verstappen primo riesce anche a questo giro a fare una prestazione esagerata dando ben tre decimi al suo compagno di squadra. Comunque la griglia di partenza è così fatta. Verstappen, Perez, Alonso, io non so cosa dire, sono sempre più contento e estasiato per Alonso perché è veramente veramente troppo forte. Anche a questo giro dà tanto distacco al suo compagno di squadra, riesce addirittura a mettersi davanti alle McLaren che sulla carta sono vetture più performanti rispetto all'Aston Martin. Si sapeva che comunque in questa gara McLaren sarebbe stato un pochino più indietro ma cavolo Aston Martin era tanto indietro come prestazione. Quindi il nano è sempre veramente troppo troppo forte. Dietro Alonso troviamo Norris Piastri dove a questo giro Norris ha dato un decimo e uno al compagno di squadra. Veramente poco, è stata molto molto vicina questa qualifica. Dietro di loro Leclerc, Sainz ma veramente tutti quanti stretti in pochissimo tempo. Infatti Piastri ha fatto 34, 273, Leclerc 34, 289 e Sainz 34, 297. Tra Sainz e Leclerc ci corrono 8 millesimi. Qualcosa di veramente pochissimo. Ottava posizione per Russell. Nono Hülkenberg, un grandissimo Hülkenberg e anche un grandissimo Bottas in decima posizione. Ferrari ha risolto i suoi problemi? Assolutissimamente no. Contrariamente come abbiamo visto l'anno scorso, quest'anno Ferrari è molto più performante in gara rispetto a quanto non sia in qualifica, sempre perché c'è il problema del riuscire a mettere in temperatura le gomme. Infatti nel primo settore Ferrari perde tantissimo, mentre nel secondo settore addirittura ci sono stati dei fucsia da parte di Leclerc. Quindi sicuramente la scuderia di Maranello avrà tantissimo lavoro da fare. Comunque qualifica spettacolare, tutti molto vicini e soprattutto un miglioramento della pista veramente visibile a occhio nudo, giro dopo giro. Non mi resta che darvi appuntamento al post Gran Premio di Shanghai, speriamo di vedere veramente una gara interessante e divertente, anche perché con la griglia così un pochino mischiata potrebbe essere veramente molto interessante. Vi auguro un buon sabato e un buon fine settimana.